un texano in vacanza a napoli chiacchierando con il palestra della belga dice intorno a corante il mio è un grande paese siamo tutti veri uomini la ben signor a ribatte l'altro sorridendo qua invece se siamo a metà uomini e metà donne però non ci lamentiamo in un giardino pubblico un vigile urbano si avvicina a due barboni seduti sulla panchina e domanda a uno di loro dove vive lei io da una sua parte e lei rivolgendoci all'altro beh ecco vicino a lui scusi signor dice educatamente un tizio in una via a un passante per caso ha visto in giro un poliziotto non fa l'altro sorpreso da queste parti bene allora mi dia il portafoglio durante un funerale il silenzio viene rotto da un vocione che si leva dalla tomba maria maria ti prego tirami fuori di qui sono ancora vivo vuoi piantarla alessandro a ribatte la presunta vitro vuoi sapere più del dottore un tale in pessimo stato di salute va da un medico e innanzitutto oggi dice devo confessarle che prima di decidermi a venire qui ho consultato e quale stupido consiglio le ha dato mi ha detto di venire a consultare lei pronto tutto sono il marescello dei carabinieri l'appuntato si è mangiato la penna e voi che state facendo sto scrivendo con la matita uscendo io dalla chiesa un'anziana signora scorcia un medicante e decide di dargli alla lemosina tenga gli dice sono 10 euro però non gli spreca in sigarette signora ha replicato l'uomo infastidito io vengo a dirle come spendere i tuoi soldi in un paesello di mare alcuni pescatori seduti in un bar parlano del più e del meno io dice uno di loro pesco solamente pesci molto grossi balene chiede ironicamente un turista che ha sentito discorso oh no signore ha replicato ha flemmatico l'altro le balene le uso come risca in un salotto in un salotto un tale già anziano ma ancora vanidoso domanda a una signora quanti anni mi da lei uffa la signora 60 esatto esclama lui ma come l'ha capito è che un cugino ha mezzo scemo e lui ne ha 30 dopo 10 anni di matrimonio una signora dice al proprio consorte oh caro perdonami no non avevo mai osato a parlarne ma ma devo proprio confessarti una cosa io sono daltonico anche io devo confessarti qualcosa a ribattere lui io sono senegalese la segretaria di un'azienda ricevendo un giovane che ha risposto a una offerta di impiego pubblicata sul giornale gli spara una raffica di domande si intende di contabilità conosce l'inglese ci sa fare con il computer e perché tutte le volte quello che ci risponde a di no la sentita sbotta e allora perché si è presentato? perché sono esattamente come diceva l'annuncio a ribattere con degnità il candidato precisava inutile senza senza referenze